Le vie del borgo sono il corridoio delle nostre stanze. Presidenza Sveve è un progetto che è nato nel 2005. Sono state ristrutturate delle case di pescatori qui all'interno del centro storico e destinate ad attività ricettiva. Quindi con un progetto di sostenibilità non ci sono state nuove costruzioni, ma sono state recuperate case antiche e case vecchie per dare la possibilità agli ospiti di viverle e quindi di vivere l'esperienza da residenti del centro storico. La residenza Sveva, l'albergo diffuso, è anche uno strumento per valorizzare e per promuovere i prodotti del territorio. Quindi la nostra colazione è fatta a chilometro zero e quindi utilizza tutti i prodotti della nostra terra. La nostra accoglienza mira a far sentire a casa i nostri ospiti, con tutti i conforti servizi di un hotel tradizionale.